Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la cronaca giudiziaria. Ci sono nuovi indagati per truffa in danno agli azionisti di Banca Tercas da 20, salgono infatti a 28 e sale anche il conto della truffa che passa da 2 milioni di euro a 3 milioni. Si allarga l'inchiesta su Banca Tercas, salgono a 28 gli indagati per truffa in danno agli azionisti e sale da 2 a oltre 3 milioni di euro il conto della truffa. La Guardia di Finanza di Teramo ha notificato 28 nuovi avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altre tanti indagati, tra cui l'ex direttore generale Antonio Di Matteo. La procura teramana contesta gli ex vertici Tercas e i dipendenti, in corso tra loro il reato di truffa con le aggravanti di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Oltre a Di Matteo, gli indagati sono Lucio Pensilli, Alessio Trivelli, Piero Lattanzi, Franco Majorani, Fabrizio Di Bonaventura, Maria Gabriella Calista, Maria Lucia De Laurentiis, Silvana De Sanctis, Rosanna Arceri, Cristian Torreggianti, Carlo Pavone, Giancarlo Stacchiotti, Franca Marozzi, Marco Nardinocchi, Pietro Sciarretta, Nicola Celli, Monica Di Luciano, Elena Malatesta, Valentina Angelozzi, Luca Ettore, Rosanna Rastelli, Maria Carmela Valentini, Danilo Ranalli, Marinella Petrini, Maria Luisa Ferri, Lidia Mazzocchitti e Enrico Robuffo. L'inchiesta del PM, Irene Scordamaglia, riguarda i pronti controtermine, prodotti finanziari che, secondo l'accusa prospettata dall'autorità giudiziaria, sarebbero stati proposti e venduti ai clienti, coprendo in realtà la vendita di azioni. I fatti contestati risalgono al giugno del 2011. Per il PM, ognuno degli indagati, nelle proprie rispettive funzioni, avrebbe promosso la sottoscrizione da parte dei clienti di prodotti venduti come investimenti ad un anno, con un rendimento garantito e che invece si sarebbero poi rivelati come titoli azionari Tercas e quindi ad alto rischio. Dopo il commissariamento della banca, avvenuta nel 2012, c'è stata la sospensione del titolo e quindi le azioni non potevano essere né vendute né comprate. L'inchiesta della procura riunisce oltre dieci denunce presentate da altrettanti risparmiatori che si sono sentiti truffati per aver comprato un prodotto diverso da quello che gli era stato prospettato. Una bufera giudiziaria che si allarga dunque dopo pochi mesi e si aggiunge, ricordiamo, all'inchiesta sul crack di Banca Tercas, in cui ci sono 14 imputati. Ancora cronaca giudiziaria, anche la perizia della professoressa Turillazzi, nominata dal GUP del Tribunale di Pescara, non è riuscita a far luce sulle cause e sui mezzi della morte di Donato Pangiarella. Il pensionato 74enne è trovato senza vita in un ascensore di un palazzo di Montesilvano. Sul banco degli imputati, Eppi Ayegbeni è accusata di omicidio preterintenzionale. Fredo Primante. Relativamente ai mezzi che determinarono la morte, dai dati circostanziali emergono situazioni tutte potenzialmente in grado di scatenare l'evento aritmico terminale, sforzo fisico di lieve e moderata entità, alterco, stato di agitazione. E la conclusione della perizia della professoressa Emanuela Turillazzi, incaricata dal GUP del Tribunale di Pescara, di fare chiarezza sulla causa e sui mezzi che hanno determinato la morte del pensionato dispoltore Donato Pangiarella, 74 anni, ex dirigente di una squadra di calcio, trovato senza vita il 6 settembre del 2014 in un ascensore di un palazzo in via Cerrano a Montesilvano. La consulenza della professoressa Turillazzi era stata richiesta dal giudice in quanto le perizie dei consulenti di parte erano contrastanti. Nella vicenda è imputata una donna nigeriana di 34 anni, Eppi Ayegbeni, assistita dall'avvocato Simone Rosario Matraksha. La giovane, che è accusata di omicidio preterintenzionale, oggi era presente in aula e sarà giudicata con il rito abbreviato. Il perito del GUP ha sottolineato che non si deve escludere il fatto che Pangiarella fosse soggetto diabetico, condizione questa che rappresenta un fattore di rischio indipendente per la morte improvvisa cardiaca. Le cause della morte sono invece da ricondurre ad una fatale aritmia cardiaca, subentrata su un substrato morfologico cardiaco patologico. Secondo il perito della difesa Giuseppe Sciarra, l'ischemia acuta che avrebbe provocato la morte del pensionato sarebbe dovuta ad un'alterazione cardiaca provocata da uno sforzo a cui si sarebbe sottoposto l'uomo portando le bottiglie d'acqua in casa acquistate dalla donna in un supermercato e dall'eccitazione sessuale suscitata dalla presenza dell'imputato. Secondo il perito dell'accusa, il medico legale Cristian Dovidio, un alterco sarebbe alla base del decesso del 74enne. Ma, sempre secondo Dovidio, il contatto fisico con la donna provato dalla perdita di sangue dell'uomo avrebbe contribuito a far precipitare il quadro cardiaco e determinare la morte del pensionato. La prossima udienza davanti al GUP Gianluca Sarandrea si terrà il 7 giugno in cui l'occasione è prevista la discussione e probabilmente sarà emessa la sentenza. La guardia di finanza di Pescara ha sgominato una banda dedita allo spaccio di stupefacenti ai furti nell'area metropolitana che va da Chieti a Pescara. Vediamo. Nel bagagliaio di un'auto risultata rubata avevano coltelli, una scaccia cani ed attrezzi da scasso. A casa di uno dei fermati è stata trovata merce rubata, un fucile da caccia completo di circa 300 munizioni ed un arsenale di coltelli ed armi bianche, tutto detenuto illegalmente. La guardia di finanza di Pescara ha smantellato una diffusa rete di spaccio di cocaina e ascisce nell'area metropolitana, costituita da una banda pronta anche a rapinare esercizi commerciali della zona. Quattro le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Pescara Gianluca Sarandrea su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Gennaro Varone nei confronti di un 50enne e un 32enne entrambi di Montesilvano e un 37enne albanese domiciliato a Roma. Obbligo di dimora invece per un 36enne di Montesilvano, tutti sono indagati per spaccio di stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi. Nel contesto dell'operazione sono state effettuate anche varie perquisizioni domiciliari con l'ausilio di due unità cinofile in provincia di Pescara e a Roma. Le indagini condotte dagli uomini del nucleo di polizia tributaria di Pescara erano state avviate a margine della più complessa operazione a Riosto 2013 a contrasto del traffico di stupefacenti che nel giugno scorso aveva disarticolato una organizzazione criminale senegalese con l'arresto di 29 persone. Ed è partita da Torino l'inchiesta sulla concessione dei certificati per la prevenzione anti-incendio che ha portato agli arresti con l'accusa di corruzione, Nazareno Feliciani, il vigile del fuoco eroe di Onna nel dopoterremoto del 2009. Vediamo. C'è anche Nazareno Feliciani, il vigile del fuoco eroe di Onna, tra gli arrestati nell'inchiesta per le mazzette nel rilascio dei certificati di prevenzione anti-incendi. Subito dopo il terremoto dell'aprile del sette anni fa, era capo di una squadra di 18 vigili del fuoco che portò i primi soccorsi nel paese devastato dal sisma. Attualmente in servizio al comando provinciale di Roma si trova ora agli arresti domiciliari. Anche di fronte al suo nome, i vigili del fuoco che nel 2014 hanno fatto scattare l'inchiesta dei carabinieri di Torino non hanno esitato un solo attimo a far partire gli accertamenti. Onore a loro, che sono stati estremamente collaborativi, attenti anche in una situazione così delicata, ribadito in conferenza stampa, il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, il colonnello Arturo Guarino. Lasciamo la cronaca. Il giorno dopo la visita del premier Matteo Renzi, il governatore della regione, Luciano D'Alfonso, commenta soddisfatto l'esito dell'incontro istituzionale e parla di un impegno concreto assunto dal leader del PD verso appunto la regione. Francesca Romana Testi. È stata la seconda visita del premier Renzi in Abruzzo a distanza di sei mesi. Se prima si era fatto un gran parlare dell'assenza del capo di governo dall'Abruzzo, come trascuratezza e disinteresse, dopo la visita di ieri e l'annuncio dello stanziamento di 60 milioni di euro per la ricerca del Gran Sasso Science Institute e soprattutto di quelli per la ricostruzione di L'Aquila, oggi il governatore D'Alfonso parla di nuovo interesse ed impegno preso da parte del suo leader di partito. Lui ha inserito pienamente l'Abruzzo nell'agenda del governo. Dal 25 di agosto assunse due impegni e li ha mantenuti entrambi. Quello di risolvere Ombrina, di accelerare le procedure amministrative per la ricostruzione dell'Aquila, terzo di fare in modo che l'Abruzzo avesse un'importante dotazione per il master plan che puntualmente è arrivata. Adesso siamo davanti ad altri risultati. Soddisfazione dunque per le due visite che hanno coinvolto l'Aquila e Chieti e l'annuncio di un ritorno ad agosto per monitorare il lavoro compiuto nella città ferita. Luciano D'Alfonso sembra aver ottenuto le tanto attese ed agognate attenzioni nei due anni precedenti. Ma di più io ho percepito proprio uno schierarsi nel cantiere Abruzzo. Importante e significativa per il sistema economico regionale la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi ai laboratori del Gran Sasso e alla VTS di Chieti grave da parte della Regione non aver invitato Confindustria ai suoi vertici regionali e locali che sono stati inspiegabilmente ignorati. Così il Presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, esprimendosi sulla recente visita del Presidente del Consiglio in Abruzzo, ha evidenziato come l'importante incontro istituzionale avesse un taglio spiccatamente di interesse economico e imprenditoriale avendo al centro dell'interesse temi come quelli legati alla Jobat e alla ricerca. Nuova protesta dei lavoratori interinali di Attiva. Questa mattina la loro contestazione si è unita a quella dei dipendenti della ASL di L'Aquila che il 31 marzo vedranno scendere i propri contratti e scadere i propri contratti senza certezze per il futuro. La marcia di protesta partita da Piazza Sacro Cuore ha raggiunto il municipio, sede nella quale si stava svolgendo il Consiglio regionale. Vediamo. Ancora protesta per i lavoratori interinali di Attiva che questa mattina hanno indetto una marcia con destinazione finale Consiglio regionale, quello che oggi si è svolto presso il Comune di Pescara. Oggi è una giornata per protestare più in generale contro il precariato della pubblica amministrazione, per quello saranno presenti anche una delegazione dei precari dell'ASL di L'Aquila. Quindi portiamo avanti questo concetto che il precariato uccide, stanca e porta solamente povertà, soprattutto nella pubblica amministrazione. Qualche settimana fa è stato proprio il sindaco di Pescara a dare una risposta che è arrivata e che insomma non è stata quella attesa dai lavoratori interinali. Ecco, cosa dovrebbe cambiare oggi? Dovrebbe cambiare il punto di vista del sindaco perché noi non siamo soggetti da reinserire nella società tramite tirocini. Noi siamo delle persone a cui è stato negato un diritto e che vogliono che questo diritto venga riconosciuto. Ad aggiungersi agli oltre 60 lavoratori oggi ci sono anche quelli dell'ASL di L'Aquila che il 31 marzo si troveranno disoccupati dopo 4 anni e che oggi chiedono sostegno alle istituzioni regionali. Noi chiediamo di rispettare la nostra dignità in quanto siamo stati comunque messi da parte dopo 4 anni di lavoro, 3 anni di lavoro, 2 anni, continuativi addirittura e noi siamo qui per rivendicare il nostro diritto. La scadenza quando sarà? Il 31 marzo ci scade il contratto e non sappiamo che fine facciamo. I consiglieri di Noi con Salvini denunciano lo stato delle frazioni del comprensorio Aquilano completamente abbandonate dopo il terremoto. Ascoltiamo. Ricostruzione delle frazioni ferma al palo, 41 milioni di euro circa stanziati nel 2015 per le frazioni dell'Aquila a fronte degli oltre 400 milioni impegnati per il centro della città. Dopo 7 anni per i consiglieri comunali del gruppo Noi con Salvini la situazione è inaccettabile. Noi abbiamo fatto la cesta di atti così come lo facciamo l'anno scorso per avere il quadro preciso di quelle che sono la situazione di fatto della ricostruzione delle frazioni e purtroppo denunciamo così come fatto l'anno scorso che sulla ricostruzione delle frazioni è praticamente all'anno zero e ferma, tenendo presente un aspetto che le somme che vengono impegnate per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni sono il 7% dell'importo che viene impegnato per quella che è la ricostruzione della città. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che sulle nostre frazioni e nei centri storici sono ormai destinati a morire. Questa amministrazione aveva dichiarato ai 420 che ci sarebbe stata un'accelerazione durante il 2015. In realtà sono stati stanziati soltanto 41 milioni di euro a differenza del centro storico della città dove sono stati 465. Il sindaco ha detto che il 2016 sarebbe stato un po' l'anno del rilancio delle frazioni che si sarebbe lavorato su questo. Ci credete? Non ci crediamo perché doveva esserlo già il 2015. Non ci crediamo perché dagli impegni che sono stati fatti per l'approvazione della parte prima delle schede parametriche le proiezioni che si fanno sono sostanzialmente uguali all'anno che è appena passato. Quindi alla solita bufala poi arriveranno al 2017 con una promessa in campagna elettorale che ricostruiranno, faranno, diranno. In realtà sulle frazioni c'è stato e ci sarà un totale abbandono perché questa amministrazione non è interessata alle ricostruzioni dei centri storici delle frazioni. Solleviamo un altro problema che è enorme. Non vogliamo che si verifichino le stesse problematiche che si stanno verificando sul centro storico della città, riferire ai sottoservizi. Sui sottoservizi nelle frazioni ad oggi ancora non viene posto in discussione nulla, il che significa che il rischio è che una volta che saranno rifatte le case non ci saranno i sottoservizi. E quindi in maniera molto forte oggi denunciamo anche quest'altro aspetto. Il centro-destra porta in Consiglio regionale una interpellanza sul caso declassamento del porto di Ortona. Dopo l'annuncio del consigliere delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro, sulla volontà appunto di far ricadere sotto l'autorità portuale di Civitavecchia l'infrastruttura, creando così collegamenti importanti con il versante tirrenico. Ma il destino del porto di Ortona sembra avvicinarsi sempre più ad Ancona. Ascoltiamo. Tra i punti all'ordine del giorno c'è l'interpellanza fatta in merito al dragaggio del porto di Pescara da un lato e poi sempre sullo stesso tema si parla del declassamento dei porti e quindi sfuma anche il sogno di Civitavecchia e resta quello di Ancona. Ma insomma questo governo regionale un po' di chiacchiere ne ha fatte tante. Insomma ci dà delle indicazioni, ne escono altre, non ultima quella di aver individuato Civitavecchia come porto nostro di riferimento anziché Ancona che era la cosa naturale, dopo mesi e mesi che ci si è detto Civitavecchia, Civitavecchia, all'improvvisamente esce Ortona. Credo che questo il Presidente ce lo debba spiegare, soprattutto ci deve far capire peraltro perché è più interessante Civitavecchia rispetto ad Ancona. A me sembra che le stesse marinerie sostengono il contrario, io non sono un tecnico, non sono un tuttologo per cui vorrei capire il motivo effettivo e soprattutto se c'è stato un reale confronto con i portatori di interessi del mare e quindi con la capineria, con la marineria, che mi sembra che questa posizione non è condivisa. E all'ordine del giorno del Consiglio regionale in programma per oggi a Pescara una legge per spostare i limiti di edificazione in prossimità dei fiumi. La denuncia della pericolosità della sua approvazione arriva dal Movimento 5 Stelle. Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle, questa volta riguarda una legge presentata al Consiglio regionale. Si parla di un rischio che riguarderebbe la costruzione di edifici abitativi spostando da 150 a 50 metri la distanza dall'argine. In un periodo in cui si parla di rischio in sondazione, problemi idrogeologici, cosa scopriamo? Che maggioranza di governo e centrodestra hanno approvato in commissione, col voto contrario nostro, di una norma che abbassa da 150 metri a 50 metri l'ampliamento delle edificazioni a fianco ai corsi d'acqua. Cosa vuol dire? Che ieri per ampliare una struttura a fianco a un corso d'acqua dovevi metterti a 150 metri. Oggi se passerà questa norma si può realizzare anche a 50 metri. Quindi con un rischio ai sondazioni, problema del rischio idrogeologico e quindi si va ad abbassare notevolmente i margini di tutela. Questa è una cosa gravissima, noi siamo stati l'unico movimento a votare contro in commissione, ci opporremo oggi in consiglio, faremo una grande battaglia e ci auguriamo che come accade spesso, ecco l'importanza del Movimento 5 Stelle, che facciano marcia indietro. E dopo più di cento anni dalla sua realizzazione, il comune di Pescara, grazie all'intervento della regione, annuncia l'avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dello storico teatro Michetti. Nuova vita al teatro Michetti di Pescara, l'amministrazione comunale in una conferenza congiunta al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, annuncia interventi che interesseranno da un lato l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza e ad altri interventi di opere civili. Finalmente arriviamo ad una fase di completamento del teatro Michetti, dopo che nella passata amministrazione di centro-sinistra l'avevamo acquisita al patrimonio comunale, era di soggetti privati, l'abbiamo resa pubblica. Però sono cambiate le leggi, soprattutto per quanto riguarda la sismicità del territorio pescarese e quindi si è reso necessario ristrutturarlo anche in funzione di renderlo agibile sotto l'aspetto sismico. Grazie a un intervento, o meglio adesso un duplice intervento della regione attraverso i fondi PARFSC abbiamo a disposizione 2 milioni di euro. Il primo per un lotto funzionale è quello della ristrutturazione sotto l'aspetto statico, poi ci sarà un secondo intervento per quanto riguarda il completamento della struttura e poi alcune opere finali, alcuni ammennicoli finali e finalmente il teatro Michetti tornerà nella fruibilità della collettività, non solo pescarese. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, in vista di Pescara Ascoli, trasferta vietata ai tifosi ospiti, il prefetto di Pescara ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Marche. Doppia seduta invece di allenamento per il Pescara, sono tornati regolarmente in gruppo Caprari, Mandragora e Zampano. Lo faranno domani vari Lappadula, Torreira e Fornasier, ancora differenziato per Campagnaro e Crescenzi, fermo sempre Selasi per influenza, il tecnico Biancazzurro Oddo. Oggi è tornato sulla partita persa a Cagliari, ascoltiamo il suo commento. Non è neanche altrettanto assolutamente vero che poi è venuto fuori il Cagliari, per quello che ho letto da qualche parte, perché non è assolutamente così. Il Cagliari ha avuto due fiammate in cui ha fatto due gol, anzi una fiammate in cui ha fatto gol, un'altra sul rimpallo vinto da Melchiorri su cui ha preso la traversa e calcio d'angolo. Poi per il resto noi abbiamo comunque sempre e costantemente attaccato anche sul 1-0, sul 1-1 e sul 2-1. Quando tu arrivi solo davanti al potiere vuol dire che hai concretizzato bene, poi se sbagli l'ultimo controllo ci sta. In occasione di errori difensivi ne abbiamo fatti veramente pochi, sicuramente sul gol e sicuramente su un paio di palle lunghe in cui non abbiamo letto bene la profondità, ma che poi abbiamo recuperato. Insomma, andare a Cagliari, fare quello che abbiamo fatto e concedere anche 3-4 errori ci sta. Se dovessimo attaccare i nostri difensori per un'azione sbagliata, quelli del Cagliari dovrebbero corricifiggere, visto che ti sei presentato 5-6 volte solo davanti al portiere. La differenza è che loro hanno fatto gol e noi no. La partita di Cagliari era la partita di Cagliari, la partita con l'Ascoli sarà un altro tipo di partita completamente diversa, dove ci saranno altri tipi di difficoltà, penso che sarà paradossalmente più difficile di quella con il Cagliari. Speriamo vivamente nell'apporto del pubblico, che secondo me in questo momento sarebbe fondamentale. Quello che è successo all'aeroporto dopo la partita è un segnale bello, un segnale importante, un segnale positivo, perché inevitabilmente tu fai una grande partita a Cagliari, perdi, dopo quando io sono rientrato nei spogliatori vedevo una squadra con la testa giù abbacchiata, così come tutto il viaggio di ritorno. E come una magia, aperte le porte dell'aeroporto, queste teste si sono alzate. E quindi questa è dimostrazione del fatto che poi il calciatore, i ragazzi, questi ragazzi sentono quando c'è un appoggio del proprio pubblico, un assenso del proprio pubblico sulle cose che si fanno e di conseguenza prendono fiducia anche loro. E doppia seduta anche per la Virtus Lanciano, ancora fermo vitale per un affaticamento muscolare la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni. Assente Zeduardo in permesso concesso dalla società, nei prossimi giorni la squadra si allenerà a Ortona. Nel Bari, prossimo avversario dei Frentani, mancherà l'attaccante Maniero a causa di una disorsione al ginocchio. Dimesso oggi dall'ospedale, il tecnico dei pugliesi Andrea Camplone nel pomeriggio è tornato a dirigere gli allenamenti della squadra. Scendiamo in Lega Pro. Sono state diramate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Lega Pro. L'Aquila Tutto Cuoio in programma sabato alle 15 è stata assegnata a Candeo di Este, Teramo Maceratese invece domenica alle 17.30 a Mainardi di Bergamo. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Scipioni e Cruciani del Teramo e Danna della Maceratese. Riprendono oggi gli allenamenti in casa Teramo in vista della gara, come abbiamo detto, di domenica prossima alle 17.30 contro la Maceratese. Nelle parole del difensore Marco Perrotta resta l'amarezza per la prova abulica contro la Lupa Roma. Paolo Renzetti. Perrotta, Vivarini ha detto che al Teramo oggi è mancata la cattiveria, quella che invece ha messo in campo la Lupa Roma. Sì, secondo me ha assolutamente ragione perché siamo scesi in campo con l'intensità giusta come sempre. Loro hanno approcciato meglio la partita sulla cattiveria e sui rimpalli e hanno vinto più seconde palle di noi. Sono stati bravi a sfruttare l'unica occasione che c'è stata la partita e hanno fatto col suo rigore. Questa poteva e doveva essere la gara della svolta. Una vittoria avrebbe avvicinato il Teramo alle zone nobili della classifica. Invece questa sconfitta rischia di chiudere definitivamente ogni discorso diverso da quello della salvezza. Sì, sicuramente doveva essere la partita della svolta. Infatti siamo molto arrabbiati perché è una partita da vincere a tutti i costi. C'è un po' di rammarico tra di noi perché potevamo dare un po' di più come squadra. Poi penso che dobbiamo rincorrere fino alla fine perché mancano ancora tante giornate. Anche se è molto dura, però dobbiamo crederci. Come si può spiegare questo passo indietro della squadra oltre che dal punto di vista del gioco anche proprio della cattiveria agonistica? Non lo so, ci sono tanti scusanti ma noi non abbiamo scuse, dovevamo scendere in campo. Abbiamo sbagliato però ci può stare, dobbiamo ripartire perché questa sconfitta ci servirà da lezione per la prossima partita e da qui fino alla fine del campionato. Accetto le critiche di oggi però sicuramente non possiamo accettare le critiche di tutto il campionato perché è solo una piccola sbavatura. Stiamo facendo un gran campionato e quindi ci dobbiamo dare sostegno come sempre per aiutarci a vincere. Rosso-Blu in apprensione per le condizioni del difensore Emanuele Pesoli bloccato da un problema alla caviglia. Gianmarco Menga I Rosso-Blu sono tornati al lavoro agli ordini del tecnico Carlo Perrone che sta pensando alla prossima missione di campionato. Battere sabato in casa il tutto cuoio e rosicchiare punti preziosi alle dirette concorrenti alla lotta salvezza. Il cammino è ancora lungo e tortuoso ma lo spirito e la compattezza messe in mostra a Savona lasciano ben sperare l'ambiente aquilano, rivitalizzato dopo le buone prove delle ultime settimane. Sul fronte squadra se da un lato c'è da sorridere per il ritorno in campo del centrale difensivo Giordano Maccarrone lo stesso non si può dire per il compagno di reparto Emanuele Pesoli che anche oggi è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia. In mattinata l'ex Pescara si è sottoposto ad un'ecografia ma solo nelle prossime ore si potrà capire realmente l'entità dell'infortunio e se Pesoli potrà recuperare in tempo per sabato. Chi non mancherà invece all'appuntamento con il Tutto Cuoio è il capitano Claudio De Sousa tornato al gol dopo quasi tre mesi proprio nel blitz di sabato scorso a Savona. È stato importante tornare al gol per me ma soprattutto per la vittoria perché in questo momento abbiamo bisogno di punti e è stato fondamentale, è stata una bella partita. Ecco tra l'altro adesso arriva sabato il Tutto Cuoio, un altro scontro diretto soprattutto per cercare di accorciare sulle dirette concorrenti. Assolutamente sì, Tutto Cuoio è una squadra che come noi lotterà fino alla fine per la salvezza, il nostro obiettivo è quello di puntare la salvezza diretta quindi partita fondamentale sabato come le prossime tre partite del resto. Ormai sembra che l'Aquila abbia trovato una quadratura con questo 3-4-3, tra l'altro forse è migliorato anche lo spirito di gruppo, da capitano cosa pensi? Sicuramente sì, dopo tante partite i nuovi arrivati stanno facendo molto bene, sia Francesco in porta che Emanuele ci hanno dato una grossa mano e quindi abbiamo trovato una quadratura che ci permette di non subire sempre gol o comunque di non regalare gol agli avversari e quindi partiamo con lo avvantaggiato. Un'ultima sul modulo perché sei stato schierato dal tecnico Perrone in una posizione un po' inedita per te. Esterno del Tridente, come ti sei trovato con Perna e San Domenico? Bene, bene, noi abbiamo diverse soluzioni, è normale che io sono una seconda punta però qualora bisogna giocare con questo modulo mi adatto anche a fare l'esterno a destra, c'è un po' più di sacrificio da fare ma per la squadra e per l'obiettivo finale sono disposto a farlo. E per il secondo anno consecutivo Silvi ospiterà l'Italia Beach Soccer, manifestazione organizzata dall'ex calciatore di Serie A Maurizio Iorio. Sei le squadre partecipanti, ascoltiamo. Maurizio Iorio dal 29 giugno al 3 luglio, un altro importante appuntamento dopo il successo dell'anno scorso? Per fortuna torno perché sono stato così bene, ho incontrato delle persone meravigliose, un'organizzazione fantastica, è un paese bellissimo. Sono molto fiero e contento di aver potuto insieme alla stessa organizzazione, all'amministrazione comunale ricreare un nuovo evento. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è ancora più prestigioso perché è un primo campionato a sei squadre, sei nazioni che verranno da tutte le parti del mondo a livello mondiale. Ci stiamo lavorando da parecchi mesi per cui questa conferenza stampa che va a suggellare tutto l'impegno che abbiamo preso mi riempi veramente di grande soddisfazione e grande gioia. La macchina organizzativa è già al lavoro, avete scelto nuovamente Silvi perché evidentemente lo scorso anno avete avuto quel ritorno che vi aspettavate. Silvi l'anno scorso è stata a dir poco straordinaria e non è falsa retorica, veramente è stato un evento che è entrato nel cuore, mi auguro anche per la cittadina di Silvi e per la sua gente. Per me, la mia organizzazione e tutte le nazionali che fanno capo alla mia società, Silvi Marina è tappa d'obbligo, tutti quanti le nazionali chiedono di venire a giocare qua. Già dallo scorso anno, l'ultima serata, prima di salutarci con Maurizio Iorio, eravamo rimasti d'accordo che questa esperienza sarebbe stata ripetuta e anche ampliata. Siamo stati di parola perché, non solo la ripetiamo, ma quest'anno sarà allargato a sei nazioni e ci saranno circa due giorni in più. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.